sei forte adriano me la capo il grande cinema di celentano prima uscita il bisbetico domato il grande cinema di celentano in edicola a 7.900 lire fabbri editori natale babbo ma cosa mi combina e capisco il go wind baruba ma da lei non me l'aspettavo go wind un telefonino con auricolare 50.000 lire di telefonate l'attivazione di wind 1088 e il cd di in wind internet gratis a partire da 295.000 lire scusa ma tu chi sei? la befana quando arriva l'epifania natale babbo se ne va via a befana amaro montenegro sapore vero questo natale porta la tua famiglia nel nuovo millennio con di più l'offerta via satellite di tele più è il regalo del secolo lo spettacolo di domani dove il digitale apre nuovi mondi interattivi in occasione di questo grande appuntamento di più ti dà l'attivazione gratuita ti regala 20 film della pay per view e ti offre più calcio gold a metà prezzo quest'anno sotto l'albero metti il futuro hai l'influenza 5 giorni a casa dall'ufficio 4 ore di tenni spersi 3 lezioni mancate 2 cene addio uno zero in all e via raffreddore via febbre via dolore è un medicinale che può avere controindicazioni ed effetti collaterali non somministrare ai bambini sotto i 12 anni leggere attentamente il foglio illustrativo zero in all che via entriamo nel 2000 andiamoci bene e per una volta in infrastrata faglia bui anche agli avversari abbonata anche lei segui l'istinto chiara gioielli in libertà quanto è bravo il maresciallo con il suo volume giallo maresciallo li ha reso tutti? ma no che è natale cerca giocattoli che regaliamo qualcosa ai poeti maresciallo è troppo buono pagine gialle il giallo con tutte le soluzioni Carla e se io da Roma alle 3 di notte volessi chiamare un unico di frascati solo per il piacere di svegliarlo? con il nuovo prezzo fuori porta spendi al massimo 43 lire al minuto peccato cosa? non avere tanti amici così antipatici 187 di Telecom Italia un numero fatto di persone devi imparare che c'è un tempo per giocare e un tempo per essere seri non si può avere una riduzione della pena per buona condotta quando un bambino prodigio non è più un bambino fai ancora l'attore? no l'ho smesso quando avevo 15 anni come può sopravvivere il prodigio? lei era così delizioso ma io sono tuttora delizioso faccio la gente adesso hai 31 anni non hai soldi noi diventeremo molto ricchi Michael J. Fox in Cercasi Superstar questa sera 20 e 50 Rai 2 che è un bambino che è un bambino Grazie a tutti.